buongiorno amiche buongiorno amici faccio presto un salutino svelto perché la sentite perché c'è la pappa si pappa il sole ci sono nuvole che vanno e vengono pazienza li accettiamo io sto in maniche corte c'è un bel caldino l'arietta non infastidisce non è gelida infastidisce lei la pelosa cos'hai fatto di pranzo di pranzo per pranzo tacchino arrostito in padella padella antiaderente con pochino di olio un po di aglio secco rosmarino secco che non ho voglia di andare a prendere quello fresco la salvia invece sì perché ce l'ho qua vicino insalata guardate di cavolo cappuccio patate bollite già tocchetti zittate e poi rostite nella medesima padella guardate che bella crosticina che ho fatto sapete l'acqua di intruglietta delle patate mica la butto stasera mi sto scongelando questa sera mi sto scongelando una zuppa di verdura e la remescio all'acqua di risulta dall'acqua rimasta dalle patate cotte e che la butto è buona e quindi me la allungo ce n'ho di più così domani saranno trascorse 24 ore dallo scongelamento me la pappo con i fidelini di riso basta sto zitta perché se no questa non ce la sciampace poi voglio mangiare ciao buona domenica è una bella bella bellissima domenica buona domenica